Tornano a sfidarsi Granata e Bellaria a Ghezzi di Cesenatico, dove Granata fa le prove prima delle soldi assoluto nella categoria di promozione. I Bellaria, formazione già colaudata, con tanti giovani e pronta a prendersi la scena, confermando quanto di buono ha fatto vedere nella precedente stagione, con Zanni in meno. Le due squadre si affrontano nel primo test vero di stagione, ma trattaci di Coppa Italia, partita che viene posticipata di una settimana con ritorno previsto mercoledì 7 ottobre per la tragica scomparsa di un prodotto della formazione ospite. Veniamo alla gara. I Granatini partono subito in discesa, con Ronchi che sotto misura infila l'estremo ospite, dando già al quarto minuto il vantaggio alla formazione di casa. Da sottolineare l'ottima discesa di Ambrosini, con l'attaccante arrivato nel corso della sessione estiva, bravo a farsi trovare pronto per la deviazione vincente. I Bellaria tuttavia non si scompone, trova il pareggio su una discesa di Bellavista, la retroguarda di casa sventa nella fase iniziale pericolo, ma il pallone termina sul piede caldo di Facondini che non tradisce l'appuntamento con la rete, ristabilendo l'equilibrio in campo. Le proiezioni offensive danno diversi spunti interessanti al match. Ambrosini viene stoppato così in corner, dall'altra parte Facondini chiama la comoda presa all'estremo Venghi, da ricordare un passato nel Sant'Arcangelo per quest'ultimo. Ma c'è un giocatore che a Bellaria continua a fare magie, alias Bellavista. Il Folletti in velocità inarrestabile, tutta la sua alla firma per il vantaggio adriatico. Davvero un gran bel gol. Gli ospiti non si accontentano, vitali serve a Vito che indisturbato nell'area piccola ha il tempo di piazzare il pallone dell'1-3. Dalla bandierina, Chiusi servito da compagno chiama la presa sul proprio palo l'attento Venghi. Il Granata, in merito di non mollare, con un'azione manovrata, arriva alla rete. Il pallone giunge ad Abbrosini che coglie l'attimo per inserirsi e battere Mignani. 2-3 il parziale. Con questo gol si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa assistiamo ad altri 45 minuti piacevoli, con Bellavista che tenta da subito la conclusione a giro, ma nulla da fare. Mentre il Granata, sul versante opposto con Fellini, grida al gol, ma Mignani segue un intervento super. Sulla ribattuta Romagnoli non ne approfitta. Le occasioni continuano ad arrivare da una parte e dall'altra. Dentro l'area Granata c'è confusione e prova ad approfittarne Vitali, ma alza la mira. Come del resto Fellini, che è sul capovolgimento di fronte, non inquadra il bersaglio. L'ex di turno Mastria, da calcio piazzato, prova a registrare la mira, ma la sua punizione si spegne a lato. Mentre Bellavista continua a danzare, mettendo al centro palloni invitanti per i compagni. Ma è lo stesso Bellavista che ha lanciato a rete e si divora poco dopo il possibile 2-4, spedendo incredibilmente a lato. Il Granata rimane in partita e con Mastria tenta il colpo del pareggio. Mirino centrato, ma Mignani segue una parata classica. Il finale di marca ospite. Lelli stende così Facondini, che dal dischetto non sbaglia, mettendo i titoli di coda al match. 2-4 in parziale, ma il Festival delle Reti in verità non finisce qui. Il Bellaria dilaga e arriva la manita con questo colpo di testa di Vitali, che fisse il definitivo finale sul 2-5 per gli ospiti. Il Bellaria conferma quanto di buono ha fatto vedere nella seconda parte della precedente stagione. Si candida al ruolo di sorpresa o di favorita con Vince Misano e Petracuta, mentre il Granata dimostra ottimi spunti a centrocampo e in avanti. Da registrare invece la difesa.